La Vittoria L'ultima cosa, dimmi per te cos'è quel fazzoletto. Lo puoi prendere, Sergio. Come vedete ragazzi, questo fazzoletto ha un significato molto grande, perché noi quanto è finito tutto ci siamo organizzati e siamo ancora quelli che lottiamo per la pace. Noi andiamo nelle scuole e vi diciamo le cose come sono successo e portiamo un nostro simbolo. È un simbolo che il giorno che non ci sarà più sarà dentro nella mia casa. Io voglio questo distintivo, questo qui il distintivo del battaglione Corbari che è quello che ho fatto parte. Questa è la nostra associazione che ne facciamo parte. Poi un'altra cosa che io verrò quel giorno, voglio la bandiera del battaglione Corbari sopra la mia cassa funebre e voglio due gallande. Voglio che quando siamo al cimitero, si vada in dove c'è il monumento dei partigiani e a consegnare un masso di fiori. Quel masso di fiori e poi la bandiera di darla alla famiglia Corbari perché la bandiera la devono portare avanti loro. e poi andare nella tomba dove c'è anche mia sorella con i bambini e lì mettere l'altro masso di fiori ma portare insieme con loro. Io la Lampi è quello che mi dà ancora la grande volontà che pur avendo oggi 89 anni, io ancora ho la grande volontà di spiegare ai giovani la pace. e con questo emblema è l'emblema della pace.